Realizzare un progetto denominato Cammino di Michele, raccordando le tre grotte micaeliche presenti nel territorio di Capitanata, precisamente a Monte Sant'Angelo, Orsara di Puglia e Cagnano Varano, con l'intento di valorizzare la valenza storico-culturale e religiosa. Si tratta di un partenariato che sarà discusso dopodomani nel Consiglio Provinciale di Foggia. A darne notizia è la stessa amministrazione di Palazzo Dogana, che nello stesso Consiglio discuterà anche della proposta di accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività propedeutiche alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra enti locali ed enti pubblici interessati alla realizzazione del Cammino di Federico II in Capitanata e dell'itinerario dei santuari della provincia di Foggia. Due progetti che mirano a dare ulteriore visibilità con inevitabili riflessi legati all'attrattività del territorio. Sempre nel corso del prossimo Consiglio Provinciale del 30 novembre, inoltre, l'amministrazione provinciale provvederà alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024 e a stabilire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione relativo all'anno 2021.